Allora ragazzi, come sono gli animi? Buoni, 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 buoni Quanti gradi ci saranno? 12 Jimmy, stai giocando a tennis, giusto? Il povero Alessandro, che ricadono le pietre, le prende sulle mani Vai, vai, sali Jimmy, facci vedere il percorso Bravo Jimmy E così non ho la varanga di dieta Buoni, 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 buoni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.